ciao splendore come stai? spero che proceda al meglio io come sempre te lo auguro di cuore questo sarà un video molto molto semplice dove faremo giusto due chiacchierine e ti mostrerò degli squish super 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 morbidosi è un video che sto registrando in una giornata in cui non sto particolarmente bene infatti penso che si noti un po' in generale nel mio viso magari negli occhi nello sguardo perché ho un pochino di raffreddore e un po' di mal di cola già da due giorni spero che la cosa non peggiori ecco e quindi insomma approfittando del fatto che l'azienda creamy candy di cui vi lascerò tutti i contatti giù nell'info box sia degli squishy che vi mostrerò che ovviamente il link diretto al loro sito mi ha inviato e ci hanno messo circa una settimana per arrivarmi perché a quanto pare provengono dall'Australia e sono veramente carinissimi ho resistito ad aprirli perché come molti di voi sanno chi mi segue da tanto tempo sa che io sono una curiosona e la situazione era questa o registravo questo video oggi oppure mi ritrovavo con gli squishy aperti tolti dalla loro confezione perché non riesco assolutamente a resistere non ce la posso fare e tra l'altro oggi avevo proprio voglia di rosso come puoi notare dallo smalto dal cerchietto dal maglioncino dal rossetto avevo proprio voglia di rosso magari proprio per ravvivare un po' il mio colorito un po' spento diciamolo siamo sinceri dai non sono proprio il massimo della mia forma oggi comunque spero che vi faccia lo stesso piacere la mia compagnia perché io sono felicissima di registrare questo video non vedevo l'ora e vi mostrerò gli squishy e poi mi è proprio venuta in mente una cosa di cui ho parlato nel mio account Instagram però su Instagram siamo molti molti di meno siamo circa 700 in confronto comunque al canale che siamo quasi 7000 adesso che sto registrando il video quindi che tra l'altro colgo l'occasione di ringraziarvi di cuore uno a uno davvero perché sia i nuovi arrivati che quelli che mi seguono da tanto tanto tempo perché non so sono davvero felice che stiamo crescendo così tanto e per me è una gioia avervi qui con me davvero sono sempre sempre molto felice di leggere i vostri commenti e cerco sempre di rispondere a tutti il prima possibile magari a volte causa lavoro impegni rispondo dopo qualche giorno però ci tengo davvero perché mi riempie davvero il cuore leggervi ve lo dico con tutta la sincerità di questo mondo e comunque ovviamente io faccio le ramificazioni nei miei discorsi e poi vai a ricordarti che stavo dicendo allora ah si stavo parlando di instagram ecco su instagram se vi fa se avete instagram se vi va di farvelo trovate il contatto nell'info box sia di quello mio asmr che di quello mio diciamo di lavoro barra personale anche se diciamo forse più di lavoro ecco che dedicato al mondo del fitness perché per chi non lo sapesse io sono una dottoressa in scienze motorie quindi mi occupo di sport di allenamento e quindi ho questi due profili ovviamente non c'è bisogno che mi seguiate in quello fitness ma se desiderate seguirmi su quell'smr mi farebbe tanto tanto piacere perché lì diciamo che pubblico quotidianamente mi faccio vedere dell'instagram stories parliamo e a questo proposito intanto prendo anche uno squishy così inizio a fare qualche rumorino mentre chiacchiero dicevo e a questo proposito vi ho espresso diciamo che possiamo dire vi ho tra virgolette presentato un progetto che mi piacerebbe fare insieme a voi ovviamente per chi se la sente di partecipare perché capisco bene che è una cosa che magari non sono tutti a volerla fare a sentirsi di farla ecco qual è questa mia idea io vorrei registrare un video smr in cui siete coinvolti anche voi che mi seguite e non vi svelo come sarà esattamente questo video perché vorrei che fosse anche un po' una sorpresa ecco senza spoilerare tutto però appunto i protagonisti sarete anche voi e per poter partecipare vi basterà registrare una traccia audio potete farlo perché immagino ovviamente che se non fate video smr non avrete uno zoom non avrete un blue yeti logicamente però potete farlo anche con le cuffiette del telefono oppure se possedete magari qualche altra tipologia di microfono insomma mi potete fare questa registrazione di circa due minuti in cui potete fare ciò che desiderate nel senso potete fare i suoni che più vi piacciono tapping scratching quello che volete quello che più vi piace potete magari dire anche qualche parolina che vi fa rilassare insomma qualsiasi cosa e una volta registrata potete inviarmela alla mia email del canale giuliaspano.smr chiocciolagmail.com anche questa la trovate giù nell'infobox non appena io avrò abbastanza materiale per poter registrare il video quindi non c'è un limite di tempo quando vedrò che la maggior parte di voi se ci saranno perché magari questa mia proposta potrebbe non realizzarsi se appunto non saremo abbastanza persone a farla quindi nell'ipotesi ecco aspetterò che ci siano abbastanza file per potermi poi dedicare alla realizzazione del video io spero ovviamente che voi partecipiate il più possibile perché mi farebbe davvero piacere portare un contenuto in cui voi che mi seguite ne fate parte ecco e quindi insomma se vi va io ve l'ho detto ecco adesso passiamo agli squish finalmente perché sono non vedo l'ora proprio di aprirlo allora come vi ho detto l'azienda si chiama cremichenti 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 e la cura nei dettagli è veramente strabiliante ora magari l'unica pecca può essere il fatto che le confezioni sono in plastica adesso che comunque stiamo parlando molto di cercare di ridurre la plastica capisco che questa può essere una pecca per il prodotto però ecco per il resto guardate quanto è carina questa etichetta con gli orsetti è veramente io trovo che abbiano avuto una cura nei dettagli davvero dolcissima ispira molta dolcezza molta tenerezza anche questo adesivo applicato sulla confezione e adesso vado ad aprirlo così lo vediamo bene ok ho spostato anche un po' lo zoom per muovermi meglio andiamo ad aprire questo pacchettino ecco abbiamo tolto questa etichetta mamma che carina troppo bellina e la boccio qua ah che carino c'è anche un ciondolino quanto è profumata è veramente super super profumato profumato questo squishy lo apriamo qua ah guarda che carino eh sì qua c'è una sorta di vitina ah proprio per lo squishy dovrebbe infilarsi qua credo sì questo comunque lo farò in un altro momento praticamente lo si può anche portare proprio ehm come portachiavi suppongo qualcosa del genere a forma di toast guarda che carino qua c'è disegnato l'orsetto che sta mangiando a sua volta un toast e dietro c'è questo coricino il profumo è veramente piacevole ed è super 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 morbido sicuramente questi sono squishy di alta qualità comunque si qua confermo che si deve inserire quella vitina per poterlo portare come ciondolo eh perché appunto qua risulta essere più duretto poi qua c'è scritto creamy candy 2019 quindi deve essere anche un prodotto recente dell'azienda e vi faccio vedere anche gli altri perché sono tutti molto dolci questo viene proprio via di mangiarlo però ovviamente non si può passiamo a uno squishy un po' più grande allora la confezione posteriormente a tutti questi disegnini e che cos'è? è praticamente uno squishy gelato dove la pallina gelato sarebbe la faccia di questo orsetto e poi c'è il cono come corpo e anche qua abbiamo un ciondolo veramente svizioso che questa volta raffigura la faccetta di un orsetto veramente super super curata questa azienda sento già il profumo senza neanche aver aperto la busta apro subito perché non resisto guarda quanto è bello il corbicino a cono e questo dovrebbe essere il gelato questo profumo ha più di limone e di melone sì forse anche un po' di melone super super morbidoso guarda come riprende la sua forma a me rilassa molto osservare gli squishy sono proprio un super super antistress a mio parere a mio parere molto efficace io mi incanto ad osservare mentre riprende la sua forma e mi dà proprio tanta tanta soddisfazione schiacciarlo e anche questo ha la predisposizione un pochino minuscolo qua per poter infilare l'altro portachiavi che adesso lo chiamo portachiavi ma non penso sia il termine più corretto però ecco magari lo si può attaccare allo zaino per esempio alla borsetta per dire bellissimo e non è finita qui perché adesso ne apro uno piccolo che raffigura lo stesso un orsacchiotto questo dovrebbe essere un macarons squishy macarons anche qua abbiamo un'etichettina super sviziosa dove si raffigurano sempre questi orsetti c'è scritto non mangiare ovviamente in effetti viene voglia di mangiarlo quindi ci sta come avvertenza andiamo ad aprire la confezione qua è incastrato il colpo ok ce l'ho fatta si era incastrato questo è già direttamente attaccato è proprio fatto bene sembra veramente un macarons qui c'è la parte beige qua immagino la cremina perché io non ho mai mangiato un macarons non mangio dolci e qua c'è la parte rosa del biscotto guardate quanto è bellino è super cute super 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 cute e ritorno alla sua forma lo schiaccio e lentamente ritorno alla sua forma e fa anche questo rumorino molto stichi 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 è sicuramente uno dei miei preferiti di quelli che mi piacciono di più ma non è finita qui adesso prendo un altro che questo penso sia uno dei pezzi forti anche questo in una confezione bella grande come quello col colo gelato anche qui abbiamo una confezione super colorata in ogni confezione ci sono scritti anche i contatti di cremichetti anche di instagram no questa è bellissima questa è troppo troppo bella veramente coccolosa no vabbè è tutta super profumosa mi piace un sacco poi questo colore questa è super super sviziosa da schiacciare guarda come ritorna lentamente adoro 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 sono tra gli squishy più belli che io abbia mai visto cioè non so se tu riesci a percepire tesoro dalla fotocamera ma hanno proprio un'altissima qualità sono fatti molto bene si vede che l'azienda è specializzata proprio nel produrre squishy stupenda le voglio già bene mi sono già affezionata wow stupenda e poi ti faccio vedere l'ultimo che invece è piccolino ma super coccoloso perché si tratta di uno squishy a forma di biscottino cioè questo viene veramente voglia di mangiarlo sembra davvero un biscotto anche qui targhettina super coccolosa dove sono raffigurati anche gli squishy sempre a forma di biscottino ma degli altri colori e ogni colore ha una profumazione differente questo in particolare è soft melon e bun bakery sono proprio contenta di questa collaborazione mi mette un sacco di buon umore a vedere tutti questi colori e tutte queste cose morbidose anti stress e penso siano proprio adeguate all'interno di canale asml eccolo qua anche questo ha già il ciondolino come lo vogliamo chiamare applicato ciondolino ah era proprio voglia di mangiarlo comunque sono finiti gli squishy te li ho mostrati tutti quindi mi raccomando fammi sapere nei commenti quello che ti è piaciuto di più perché sono curiosa allora a me è piaciuto come avrai intuito sicuramente tantissimo la balenina questo questo tutti faccio prima dire tutti allora diciamo che questi tre sono i miei preferiti e poi vengono il biscottino che ti ho appena mostrato e il toast quei tre sono i miei preferiti in assoluto però anche questi non sono assolutamente da meno questo è morbidosissimo comunque tesoro io spero di averti tenuto un po' di compagnia video semplice giusto per dirti qualcosina qualche chiacchiera leggera e mostrarti questi bellissimi squishy che spero ti siano piaciuti come ti ho detto ti lascio tutti i link nell'info box in modo tale in modo tale che se tu sei interessato ad acquistarli puoi farlo tramite questi link per il resto splendore ci vediamo in un prossimo video asmr ti mando un bacio grande 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 è super 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 morbidoso buon relax buon relax buon riposino pomeridiano o semplicemente buon proseguimento ti auguro tante tante cose belle perché te le meriti ciao ciao